Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso d'urgenza dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata di beni del valore di oltre 166.000 euro nei confronti di due donne, moglie e suocera di un affiliato a Clangionta, sottoposta ad indagini per reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato per aver percepito per 15 anni il vitalizio previsto per i familiari delle vittime della criminalità organizzata. La vicenda trae origine dalla strage di Sant'Alessandro allorché il 26 agosto 1984 un gruppo di fuoco della criminalità organizzata a bordo di un autobus turistico davanti al circolo dei pescatori a Torre Annunziata aprì il fuoco uccidendo otto persone e cagionando il ferimento di altre sette persone. 18 anni dopo, nel febbraio 2002, la moglie e la figlia di una delle vittime della strage avevano ottenuto dal Ministero dell'Interno un assegno vitalizio in qualità di familiari delle vittime della camorra. Tale beneficio economico era però incompatibile con il fatto che la figlia della vittima dell'agguato nel 1999 si era sposata con un esponente del Clangionta detenuto dal 2017 nel carcere di Secondigliano nonché condannato con sentenza definitiva in data nel 2018. L'intervenuto matrimonio era stato taggiunto dalla donna per poter continuare a beneficiare del vitalizio. Allorché nel 2009 la prefettura aveva richiesto reiteratamente alle due donne di aggiornare le informazioni sulla loro situazione familiare al fine di poter verificare oltre stranità ad ambienti criminali, requisito previsto dalla legge per poter beneficiare del vitalizio, le due beneficiare avevano omesso di rispondere ed avevano simulato una separazione consensuale tra i coniugi omologata nel 2010 dal Tribunale di Torre Annunziata. Le indagini espletate dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata hanno consentito di accertare il carattere fittizio della separazione tra i coniugi essendosi acclarato che successivamente alla separazione nel 2017 la coppia aveva avuto un'altra figlia e che la moglie, talvolta insieme alla suogera, aveva continuato ad effettuare i colloqui con il marito nel carcere di Secondigliano, ove questi è tuttora distretto. L'importo del vitalizio indebitamente percepito dalle due donne sino alla data odierna è pari a 166.000 euro.